musica ciao tesori benvenuti nel primo vlogmas via Lara oggi come prima puntata di questa meravigliosa nuova figura si dei vlogmas facciamo l'albero e Lara è ancora un po' truccata perchè oggi ha fatto una gara e ha vinto ha vinto il primo premio lasciamo la videocamera wow dobbiamo aprire l'albero secondo me facciamo meglio a allora adesso avrete finito quei due da notare che io qua sopra c'ho ancora tutti i vestiti che ho fatto per il video degli outfit provati perchè non li ho ancora messi a posta quanto scaccio c'è? mole che ho fatto? ok allora questo più piccolino è della Lara mia quello lo facciamo al canale di Lara quello esatto nel canale di Lara ci sarà Lara che fa il mini alberello combattiamo i nostri fatti si rifattano 3 2 1 allora la posizione è importantissima 3 3 amore dove sta l'altro pezzo? a terra si pure dov'è l'altro pezzo amore? forse è al contrario si si è al contrario secondo me è al contrario no secondo me è al contrario secondo me è al contrario ma wow è vero secondo me è così usiamo anche da te dobbiamo quello vabbè Lara guarda una pambulina che ci faceva tra tutti questa è la mia si ma dove sta? allora prenderemo pure questa amore amore siamo fino oggi remare amore amore non trovo l'ultimo pezzo è il pezzettino che sta qua sopra che è l'ultimo che fa siamo benvenuti e certo amore l'albero mica che arriva va qui ma arriva va qui ma che sta facendo sicuramente ma non l'ho trovato amore beh chi lo trova vince qualcosa cioè il fatto che qualcuno dice qualcosa sì un altro un altro amore cercatelo meglio eh ah ah è l'altra parte no no ma sono sicuri che è così basso stessa che vedo quant'era quanto? no baby è proprio più alto di te guarda ci sarà un altro pezzo? si no ci deve essere per fuori amore ma che ricevelo l'abbiamo tirato fuori no amo sono cresciuto capito ah ah no è più alto di me perchè stai andando verso su? perchè quasi si fa no si non so tu nella tua terra della norvegia come fate gli alberi noi in norvegia non facciamo gli alberi perchè non so non so allora dobbiamo trovare i colori che colore è questo? blu blu bravissimo bravissimo noi l'albero lo stiamo facendo scusamente per i video perchè noi non l'abbiamo mai fatto facci caso eh l'albero lo facciamo sempre e solo a natale eh siamo dei finti veramente dovremmo smetterla di fare l'albero a natale è perchè è anti furto non ce lo possono rubare eh vedo se trovi dopo ci hanno rubato l'albero ahahah papà wow grande ne ha messo uno da sua comunque se non si è capito a tutti i vicini anche quelli dell'ultimo piano stiamo facendo l'albero stiamo facendo l'albero perché questi questi vicini allora posso parlare questi vicini no 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 devo parlare allora i vicini nostri ce l'hanno battuti sul tempo perchè non è manco ancora l'otto e sapete che hanno messo già quello da fuori un bacino mamma bianco 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 dicevo ci hanno battuti sul tempo quindi dobbiamo metterli prima cioè prima noi no però li dobbiamo mettere più belli va bene mamma questo è bianco qui va bravo amore mio bravissima ascia ti schiacciate ma perchè tu li stai aprendo io ora si no io no vai vai lara oh piano beviti fe male non serve allora una cosa che mi diceva sempre mio padre non serve la forza ma serve l'intelligenza amore mette messi questo qua patatina aiuta la mamma qui per favore questo qui oh che brava qui 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 ecco oh vedi che si mette da solo qua metti quell'arancione si dov'è rosso dammelo dammelo per favore mia soprana faccia qualcosa per me sei tu che devi fare delle cose per me ha ragione ok ok tu le do subito l'aria spento l'ignacchio mia figlia grazie madonna fai davvero vento le state ombrio che è una meraviglia mamma me ne ho uno trigo ma tre ammelo mi chiede si la metti la mano bello metti questo amore adesso ci arriva adesso ci arriviamo oh brava 25 brava bravo bravissimo amore non ti preoccupare non l'hai messo storto mamma lo raddrizza poco poco e stiamo a pace adesso ci siamo questo lo appendiamo per casa perché è meraviglioso quello lo usale per sentirsi più donna allora le cerco di mettere abbastanza dentro perché non si vede più no è la prima volta che faccio un lampino in casa suppongo la prima volta come è la prima volta perché l'anno scorso non ti è piaciuto no non l'abbiamo fatto si l'abbiamo fatto però si dolcezza e forse perché adesso essendo più grande si vive un pochino di più le cose giustamente direi che bello vieni di più esci eh no no torna a mezzanotte no è una dolcezza girate le prime non sono tutte amore mancano ancora alcune adesso ne mancano altre mettiti questo ho 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 è prima di matare di famiglia amore evidentemente sono sempre di più questa va bene non è proprio meglio ma l'altro è una pezzettina insomma grazie alla situazione ahhh che bello questo senti le altre lo facciamo insieme da sotto un po' il terrore che sei troppo vuoto 5 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 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 8 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 15 23 13 13 14 14 15 15 15 16 15 16 17 18 19 18 19 sull'albero di natale si una casa con un albero di natale dentro una casa con un albero di natale sull'albero di natale si non è vero siamo storie non è vero grazie Lara siamo te grepiti siamo me la storia siamo giovani siamo giovani io attacco Gesù è un anzuletto mamma non è Gesù quando sentiamo ammere i cani io sono con una maglietta ammere che lunga e tu sei una maglietta ammere che lunga io sono un cane lei è un cane lei è un cane ho deciso lei ma lei è ammere che corte e con le infradito io sono le scappe con i calzini cioè ragazzi io sono le scappe con i calzini adesso sei che sono un cane questa condizione mi piace mi piace mi piace amore amore un piccione allora glielo dite voi che questo è è un anadra è un anadra è un anadra è un anadra io voglio venire la mia scatola e la scatola della quale parla è questa e attaccala tu grazie dolcetta sei molto certina grazie a tutti buonanotte io voglio venire la notte è un anadra la notte è un anadra è una regola esatto è un anadra è un anadra mi prendi un cucino di questo? oh si grazie questo è perfetto albero pieno tocca a la pucca un po' più su amore ok bravissima bravi bravi è più bello il nostro amore intanto per fare scena e poi la stiriamo allora adesso c'è appunto il tavolo fatto ah giusto per mostrarvi una cosa vai un po' più giù e vai un po' più giù e vai certo che mi piace è meraviglioso come mio marito abbia il marsupio mi piace il marsupio anzi che si vede il marsupio e vai un po' più giù e vai un po' più giù bravissima ci penso io ma 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 mamma non vale bene tesori noi ci vediamo come sempre qui ore 14.30 sempre qui sempre su questo canale e come sempre vi invito a iscriviti al canale e lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto noi ci vediamo si ma quanto sei bello c'è anche quello piccolo comunque noi ci vediamo domani perchè ci sarà una nuova puntata di vlogmas quindi ci vediamo domani love you